Ogni volta che mi volevo con te sei sempre più bello, complimenti, veramente. Ho sparato da te, caro Riccardo. Eccoci qua. Allora, tanto volevo che tranquillizzassi il pubblico sulle condizioni del tuo tastierista. Sa bene, sa bene, sa bene. Sono fatto un incidente, quindi nessun problema. Hai un CD, hai qualcosa che puoi presentare, che puoi prestare un lavoro al pubblico in modo che possa venirne a conoscenza? Allora, il progetto è in corso e nel frattempo potete ascoltare qualcosa su MySpace, oppure sul sito. E stiamo partendo con un progetto, cioè ci sono un po' di cose, speriamo che... Molto bene. Ultima cosa, è assiuta bene che influisce un po'. Sì, il saltatempo incarna la volontà di far uscire la musica italiana degli schemi e l'abbiamo creato un po' intorno. Quindi musica araba, ci sono altri pezzi, un po' di world pop, insomma. Grazie, Riccardo, linea tua faccia. Ok, grazie Andrea.